Quando vogliamo cambiare stile alimentare e adottare nuove abitudini di vita, la prima cosa che ci terrorizza è dover fare troppi cambi nella dispensa e poi non sappiamo da dove iniziare. In realtà è ottimo procedere per piccoli passi, vediamo quali. Ecco quindi un semplice vademecum dei primi cambi che puoi adottare fin da subito senza fare troppi acquisti o spendere troppi soldi, mandando all'essenza delle cose che occorrono davvero. Prima cosa, sostituisci il sale. Quello che stai usando è davvero pessimo, molto raffinato ed è un concentrato di cloruro di sodio, invecchia le tue cellule e non aiuta l'equilibrio degli elettroliti. Quindi quali alternative puoi usare? Un buon sale marino integrale che abbia tutte le vitamine e minerali preziosi al suo interno e o del sale dell'Himalaya di buona qualità e certificato. Mi raccomando mai e poi mai sale iodato che può essere molto pericoloso per la tua tiroide e riempirti di metalli tossici. Seconda cosa importante, sostituisci l'olio e compra grassi. Dato che i grassi sono preziosi alleati del nuovo stile alimentare, è fondamentale averli in dispensa, curarne la qualità e non dimenticare di comprarli. Quindi migliora la qualità dell'olio evo che usi, che sia bio e spremuto a freddo e poi aggiungi del burro per iniziare o se puoi ghi e olio di cocco. Sostituisci lo zucchero. Via zucchero bianco e di canna, edulcoranti in bustine o compresse o sciroppo d'agave. Cerca zucchero integrale di cocco ad indice glicemico più basso o meglio ancora stevia, eritritolo e xilitolo con indice glicemico inesistente e quindi molto adatti ad un uso regolare, sia per bevande che per docci da preparare. Via dadi da brodo, bevande gasate e zuccherate, cibi confezionati di cattiva qualità, formaggi spalmabili, viustel, carne in scatola, anche surgelati, smettila di usarli ogni giorno, solo quando proprio ne hai la necessità e alleggerisci per favore il tuo freezer. Aggiungi invece erbette fresche con cui puoi cucinare e non farti mancare timo, maggiorana, erba e cipollina, prezzemolo, basilico, salvia. Sono buonissimi e il cibo è molto più gustoso e se non storci il naso anche curcuma, curry non piccante, perché sono davvero utili per la tua digestione. Trovi un perfetto mix di spezie super bilanciato nel nostro ShopSauton. Ecco, ora hai tutto l'essenziale, ti bastano verdure fresche e proteine di qualità e puoi partire alla grande. Se ti fa piacere, sullo ShopSauton abbiamo creato anche un kit di benvenuto con tutto ciò che può servirti per iniziare ad un prezzo super vantaggioso.